Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento significativo della produzione scientifica fatta dagli infermieri. Se noi immaginiamo che, ad esempio, i primi dottorali di ricerca per gli infermieri, tornati nel 2006, abbiamo visto comunque che in questi dieci anni la produzione scientifica aumentata. Infatti uno studio pubblicato ultimamente nel 2019 dalla professoressa Sasso ha dimostrato proprio come le pubblicazioni effettuate da dottorali di ricerca siano aumentate, sono aumentate le pubblicazioni su riviste internazionali, scientifiche, con l'impaffatto. Sono diminuite allo stesso tempo negli ultimi anni le pubblicazioni su riviste meno importanti, però sono aumentate quelle con l'impaffatto. Questa dimostrazione che la ricerca infermieristica sta facendo molto.